Intanto vi rinfresco un momento la memoria per chi ha visto tutta la serata e anche per chi non l'ha vista Paola che è qui, si è esibita per prima con Just Give Me A Reason di Pink poi è stata l'ora di Jacopo e Deborah che hanno cantato A Thousand Years Elisa Dece che al momento si sta mangiando uno stinco e ce l'ha giugnerà tra poco ha cantato questo bellissimo gioco di Annalisa, poi Doriana, eccola, Dall'inferno di Marco Mengoni poi dopo Doriana ha cantato Sofì, dove è Sofì? Scappata anche lei Imagine dei Beatles, poi Marta When I Was Your Man di Bruno Mars Paola e Andrea ce li abbiamo lì in mezzo, Il Gatto e la Volpe Giada c'è, eccola, Only Teardrops poi Marta e Francesca quindi vanno a rappresentare il duetto abbiamo Francesca, Mille Passi e poi manca ancora l'ultimo duetto, quello che avete sentito da poco che sono Jacopo e Francesca che ci hanno cantato Nidio Naro aspettiamo gli altri concorrenti, come sempre mancano i soliti sempre soliti Marta aspetto che arrivino tutti perché nel caso di dare tutti insieme non vorrei che inficiasse il risultato, non ammazzarvi bene vai di là che c'è più spazio Andrea De Coutère riesce a parlarmi anche quando presento è un fenomeno, veramente e Sofì va bene, pazienza, perde il diritto al voto, mi dispiace allora, partiamo all'inizio potete applaudire quante volte volete scremiamo un po' il gruppo partiamo da Paola, Paola un passo avanti per Paola che ci ha cantato Just Give Me A Reason di Pink un applauso ok, Paola mettiti da un lato così sappiamo che sei già stata votata Jacopo e Deborah passa avanti The Thousand Years un applauso qua mi mette molto male a giudicare aiutatemi perché non è per niente facile Elisa prego Elisa, questo bellissimo gioco ok poi facciamo Francesca e Marta 200.000 passi ho sentito qualche grido in più bene Jacopo e Francesca vi richiedo di portarmi avanti che hanno cantato per ulti Elimiamo ai giudicati di Sarasaggio ok poi Paola e Andrea forza il gatto la volta bene poi abbiamo Giada Only Clear Drops ok e Doriana dall'interno va bene si anche Marta la sola scusa Marta vieni non ti arrabbiare hai ragione scusate When I Was Your Man allora è complicato mi sembra di aver visto che Elisa hai preso un po' meno applausi degli altri vieni avanti una volta perdi una volta se vuoi facciamo un applauso a Elisa che vi saluta però diciamo quelli che hanno preso più applausi mi sono sembrati Marta e Francesca sicuramente poi Doriana e Jacopo e Francesca ok allora ringraziamo e salutiamo Deborah, Paola, Andrea e Giada un applauso per favore grazie guarda incredibile potresti arrivare in finale dappertutto sdoppiti immediatamente allora adesso qua ci giochiamo i primi tre posti però l'unico che vince è il primo posto quindi ricordiamo un buono da 50 euro da spendere nei negozi del Civ di Millesimo allora partiamo con qui chi applaude per uno non applaude per l'altro ok è chiaro? Doriana va bene Jacopo e Francesca un applauso per loro ok Saggio quante mani hai? Marta e Francesca un applauso va bene mi sembra chiaro ed evidente che ancora una volta si porta a casa il primo premio Doriana Puccio che ha cantato Dall'inferno di Marco Mengoli una canzone pessima per una brava cantante complimenti Doriana il tifo De Gese ancora una volta ti ha aiutato e non solo bravissima